Buonasera, non coloria signor, voglio fare una domanda che scocci queste pensane, non so che tempo per ore, capito, come funzionare? Dico, i sopracciglia le femmine le carano e se le disegnano oppure una moda mocca se le tagliano e se le disegnano, che si portano disegnate, lei capite questa cosa? Ha capito che voglio rire? Io lei capita, tu hai capito che voglio rire?